Quella del 6 maggio è un'attività informativa. Noi parliamo a tutti, è un evento aperto a tutti, non esclusivamente ai medici, perché le persone hanno bisogno anche di essere informate. In primis su quanto ha fatto la ricerca scientifica fino ad oggi e quali sono le prospettive future, in assoluto una delle priorità dell'Ions. Io poi chiaramente parlo anche da genitore coinvolto, quindi la mia è un po' una duplice veste. In primis sicuramente un papà che purtroppo ha perso un figlio. Nel 2017 abbiamo fatto un percorso importante, duro. E quindi quando io mi accingo a parlare di questi convegni, di queste organizzazioni, parliamo di tumori pediatrici, nella fattispecie tumori celebrare neuroblastoma, lo faccio con il cuore, perché mi immedesimo in quello che in questo momento alcune famiglie stanno vivendo. E quindi solo partendo da qui si può capire quello che andrebbe fatto e come andrebbe fatto e perché è importante farlo. Purtroppo i casi esistono, sono in aumento, ogni anno ce li abbiamo e noi come Lions ci vogliamo dar da fare, vogliamo far qualcosa. Vogliamo far qualcosa in che termini? Uno nel fare informazione, coinvolgere i medici dedicati a questi bambini, supportare la ricerca, in questo caso lo faremo attraverso l'associazione lotta al neuroblastoma e tumori cerebrali, il laboratorio principale, se così lo possiamo chiamare, ha sede al Gaslini. Però questa associazione negli anni ha fatto un lavoro egregio, ha destinato fiori e fiori di quattrini a ricercatori, a giovani ricercatori e a giovani medici, mettendone nelle condizioni di fare le ricerche più appropriate, più indicate per questa patologia. Un altro obiettivo che ci poniamo è quello di creare un collegamento tra la nostra sanità, la nostra pediatria, che possiamo definire un po' una pediatria periferica, con i centri d'eccellenza. È fondamentale perché il genitore ha bisogno anche di essere indirizzato, di sapere che esistono in Italia centri d'eccellenza che curano determinate malattie. Non tutti i centri in Italia possono farlo. Il Lions si spende molto, ha degli obiettivi, tanti obiettivi importanti, tra cui l'oncologia pediatrica. Però bisogna affidarci nelle mani giuste.